Salve a tutti ragazzi, ecco immagini che ci giungono dagli Stati Uniti. Una tempesta di neve negli ultimi giorni sta martellando pesantemente tutti gli Stati Uniti. Nessuno si aspettava temperature così basse anche se l'allerta in tutto il paese era stata già lanciata con anticipo. Lo stato più colpito risulta essere quello di New York. Dove negli ultimi giorni si sono registrate 28 delle 56 vittime a causa del freddo e della brutalità della tempesta che è stata ribattezzata Elliot. Guardate ragazzi, veramente tantissima neve, quindi non sono centimetri in alcune zone, veramente si sono registrate accumuli esagerati. Quindi guardate questo signore che libera la neve, la sua auto dalla neve e guardate le immagini che ripeto sono tutte amatoriali riprese da persone del web. Come sempre ragazzi ci aggiorneremo in caso ce ne fosse bisogno, io spero proprio di no, ma in caso ce ne sarà bisogno faremo un altro video. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima news.